Giorno 362. Oggi ci sono molte notizie da Bakhmut. Dopo il recente cambio del fronte nella regione, i russi hanno provato a mantenere lo slancio e sfondato immediatamente la successiva linea difensiva. Hanno lanciato una serie di attacchi da quasi tutti i lati, ma come mostrato dal video della Wagner, l'unico risultato è stato subire più perdite. L'ultima volta abbiamo visto come, dopo la ritirata da Paraskovivka, la linea del fronte si è avvicinata all'autostrada. Senza una presenza ucraina nella città, i russi hanno avuto la libertà di attaccare le periferie a nord di Bakhmut. Dopo aver stabilito controllo su diversi blocchi, hanno aperto un'altra linea d'attacco e cominciato ad avanzare lungo le ferrovie. E questo ha portato diverse fonti ad aree come collassate le difese ucraine e Belkivka e Yaidne prese in una sacca. Tuttavia, questo è il risultato falso, in quanto non c'è alcuna possibilità per i russi di mantenere una presenza stabile nella regione. Tutto quello che possono fare sono attacchi rapidi per poi ritirarsi successivamente. Alcune fonti suggeriscono che i russi abbiano preso il controllo sulle difese vicine a Yaidne, ovvero la stazione ferroviaria, ma neppure le fonti russe concordano con questa conclusione, definendola una zona grigia. Ciò non significa che la situazione sia facile. I russi stanno assottigliando la linea al fronte e bloccando molte truppe ucraine attaccando la stazione Yaidne, Belkivka da due lati e anche Dubovo Vasilivka. Al momento i combattimenti sono concentrati nelle aree forestali dove gli ucraini hanno le loro posizioni. Ci sono due maniere per rifornirli, da Bakhmut e da Orikovo Vasilivka. Combattimenti costanti hanno probabilmente reso la strada centrale inutilizzabile, quindi vengono usate entrambe per minimizzare i rischi. Al momento questo metodo sembra funzionare poiché fonti russe hanno riportato che gli ucraine avevano rinforzato il fronte con diversi nuovi battaglioni. I russi stanno anche avendo diversi problemi e costrizioni. Il loro asse d'attacco principale passa per le pianure, mentre gli ucraine e gli Yaidne si trovano su una collina il che non permette ai russi di attaccare con grossi gruppi. Ed ecco perché secondo i soldati al fronte le unità russe all'assalto sono piuttosto piccole, cercando di compensare il numero di soldati con il numero di attacchi lanciando numerosi assalti su diversi insediamenti e da diversi lati. Al momento però tutti gli attacchi contro i Yaidne sono stati respinti e attaccare frontalmente Berkifka è una manovra suicida, quindi stanno cercando di prendere il controllo sulle zone forestali ma senza successo. Inoltre gli attacchi mirati a bloccare le truppe ucraine falliscono a causa della geografia locale, particolarmente densa di alberi nella zona collinare. Gli ucraine hanno ricevuto rifornimenti per i mortai che si è rivelata un'arma decisiva contro questo tipo di attacchi, molti analisti dichiarano che la mancanza di mortai era uno dei fattori che ha contribuito alla caduta di Soledar. Gli ucraine erano infatti costretti a usare corte raffiche di mitragliatrice per evitarne il suo riscaldamento e rendendo molto difficile distruggere un nemico in copertura, dove invece diversi colpi di mortaio sono sufficienti a distruggere un'intera squadra. A causa di faide interne tra la Wagner e il Ministero della Difesa russo, i mercenari mancano di personale ed equipaggiamento per poter sopprimere l'artiglieria ucraine e condurre operazioni di controbatteria. Diversi giorni fa i combattenti della Wagner avevano pubblicato un video mostrando i cadaveri di dozzine di soldati, dichiarando che stessero perdendo centinaia di soldati al giorno a causa della mancanza di rifornimenti. Questo è significativo, in quanto la Wagner è in carica delle operazioni che puntano a tagliare Bakhmut dai rifornimenti e concludere l'accerchiamento operativo. Se controlliamo il meteo, inoltre possiamo vedere che hanno soltanto 4 giorni. Dopodiché le temperature si alzeranno sciogliendo la neve e trasformando il terreno in fango. E come potete vedere dalla mappa, tutte le linee d'attacco russe passano per qualche sorta di campo. Le recenti perdite e le situazioni meteorologiche sfavorevoli faranno probabilmente diminuire le intensità degli attacchi russi in maniera significativa. Intorno a Bakhmut c'è un'atmosfera di preoccupazione a causa del fatto che col ritorno del fango sarà più difficile rifornire la città. Tuttavia, tutto indica che gli ukraini si siano già preparati a questa eventualità. La scorsa settimana, infatti, le strade per Bakhmut sono state chiuse per civili e volontari, il che indica che i comandanti della zona abbiano voluto usarle in maniera intensiva. Alcuni video mostrano come siano stati evacuati archivi e documentazione, mentre altri mostrano come gli altri blocchi sulla parte est del fiume siano stati abbandonati. Infatti al momento gli ukraini controllano solo una piccola parte della zona residenziale. Altre fonti suggeriscono che molte unità sono state rilocate da Bakhmut e il numero di truppe si è diminuito da 4 o 5 mila unità. I russi hanno diminuito l'intensità degli attacchi verso la città per concentrarsi sull'accelchiamento, cosa che ha permesso ai ukraini di continuare la ritirata quasi indisturbati. E sfortunatamente per i russi il tempo per completare le loro operazioni sta per scadere, in quanto il fango non permetterà a loro di tagliare alcuna strada e gli ukraini potranno ritirarsi gradualmente prima che il terreno si asciughi ad aprile. In generale la situazione intorno a Bakhmut è molto difficile per entrambi. Gli ukraini hanno sempre meno spazio di manovra per bloccare l'avanzata russa e permettere ai rifornimenti di arrivare alla città, mentre i russi non hanno quasi più tempo, poiché in pochi giorni tornerà al fango, rendendo molti campi inutilizzabili e bloccandone l'avanzata. Gli ukraini hanno quasi finito di ristrutturare le difese interne alla città e se riescono a tenere i fianchi per qualche altro giorno la situazione diventerà molto più facile.